Carissimi giovani cantanti e cantautori, sono ufficialmente aperte le iscrizioni al contest Sicurezza Stradale in Musica di Anas. Per partecipare dovete inviare la vostra canzone ovviamente sul tema della sicurezza stradale, importantissima, e una giuria di esperti, tra cui ci sono anch'io, Francesco Gabbani, decreterà il vincitore. Quindi scrivete, 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 cantate, cantate, cantate e inviate. Ciao! Grazie!